Boccata all'ossigeno per le marridotte province, enti destinati ad essere aboliti dalla riforma del Rio, salvati dal referendum costituzionale e oggi in poche parole senza risorse disponibili per svolgere le proprie funzioni. A mettere una pezza è Regione Lombardia che ha destinato alle 12 amministrazioni provinciali e alla città metropolitana di Milano un contributo di 17,8 milioni di euro per l'anno 2018, in particolare per la protezione civile, per il turismo, la cultura, i servizi sociali e la vigilanza itico-venatoria alla provincia di Sondrio sono stati destinati 1.400.000 euro 900.000 euro invece per la provincia di Lecco, penultima nella gradatoria prima di Lodi che ha ottenuto solo, si fa per dire, 700.000 euro. Sul totale del contributo erogato dal Pirellone, un milione in conto capitale, destinato cioè a interventi strutturali e di manutenzione quanto mai necessari. Con l'assegnazione di quasi 18 milioni di euro alle province e alla città metropolitana, Regione Lombardia, commenta Massimo Sertori, assessore con delega a enti locali, montagne e piccoli comuni, ancora una volta le conferma la volontà di essere dalla parte del territorio lombardo e di dare risposte concrete alle esigenze locali. Grazie al confronto positivo di questi mesi, prosegue Sertori, con il provvedimento integriamo sensibilmente il contributo annuale attribuito, introducendo la novità della messa a disposizione di fondi regionali in conto capitale per un milione di euro. Regione Lombardia, conclude l'assessore agli enti locali, a seguito della legge del Rio, che aveva avviato un processo di ridimensionamento del ruolo delle competenze e delle risorse delle province, conferma invece l'importanza istituzionale di questi enti, dimostrando di essere al loro fianco, con un sostegno economico concreto necessario allo svolgimento di funzioni e servizi provinciali. Grazie a tutti.